...al fedele pubblico sprazzi di spettacolo di primordine e di utopia. 6 a 0 è un risultato da foro italico. Van Basten ha imbroccato la volée giusta dopo 16 minuti e poi il Milan ha sprecato parecchio. Le poche emozioni sono scaturite da alcune occasioni offerte generosamente dall'impenetrabile difesa rossonera all'indigente, avversario e non sfruttate da Turchilmazzi. Nel secondo tempo si sono aperte le cateratte. Evani è stato abile quanto Van Basten sul tiro del secondo gol. Pilato è stato impegnato più nel raccogliere palloni in rete che nel lavarsi le mani. Simone si è rivelato bravissimo tuttavia sulla palla del 3 a 0. La tripletta di Van Basten ha fatto pensare a molti che se Marco avesse puntato l'orologio a Cucù, svegliandosi per tempo il campionato rosso-nero sarebbe stato ben diverso. E del resto il Milan ha fatto 13 punti nelle ultime 7 partite, grazie anche alle prodezze degli olandesi presenti fra i marcatori oggi pure con Raikari. Aspettando il ritorno del Bologna in Serie A accontentiamoci delle parole di radice.